E' stato detto Quali? No, no, non abbiamo detto No, 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 non abbiamo detto Dove è arrivato la macchina, no? Quello spontaneo, il vino E stiamo giù che camminavano No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Siamo arrivati su Siamo arrivati su Siamo arrivati su, allora Guarda Guarda Il suo settore è già impiancato Guarda 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.